Ma come primi giorni comunque è una nuova realtà, sono buone impressioni perché comunque trovi entusiasmo, trovi voglia di fare, conosci nuove compagnie di squadra, quindi è un buon inizio. Quest'anno secondo me il livello si è alzato ancora di più, quindi comunque questa risposta posso darla fra un po', almeno dopo la preparazione per capire com'è la squadra, perché comunque poi con l'arrivo dei livelli nazionali si va a intendere, però secondo me è un ruolo di quelli che, la classica squadra che si viene la cara da pelle contro tutti, che ci sia davanti la prima in classifica o anche l'ultimo comunque, da qui puoi costruire le basi per poi fare tutto il campionato. Se le basi sono, diciamo, scricchiorano poi il resto del campionato non può essere sicuramente un gran campionato, invece si mette le buone basi per costruire un gran progetto, con l'abilità, voglio lavorare, sempre a disposizione per la squadra, anche nei momenti in cui hai un po' meno da dare, perché ci sono quei momenti lì, però comunque un 100% alla squadra.